Ma che sta succedendo? Io non vedo niente! Anche io non vedo niente! Guardate! Grazie di essere venuta, signora. Che cosa vuole da me? Voglio dirti di far costruire qui una cappella in mio onore. Io sono la Madonna del Rosario. Voglio che continuino a pregare ogni giorno. La guerra finirà presto, i soldati torneranno a casa. Ci sono tanti peccatori che vorrebbero salvarsi. Se fai il miracolo come ci ha promesso, questo succederà. Gli uomini sono liberi di peccare o di onorare Dio. È solo in loro il pentimento. Tutti aspettano il miracolo, signora. Di a tutti che se vorranno, dovranno come voi accettare le sofferenze e i sacrifici per liberarsi dalle loro colpe. Solamente in questo modo il mondo potrà salvarsi. L'uomo non dovrà più mettersi al posto di Dio. Chiudete tutti gli ombrelli! Guardate, è il sole! Guardate, guardate lì! Guardate, il sole sta passando il giro giunto! Non ho mai visto una cosa così. Ora viene giunto! Il sole si sta pelando tasso! Asciutti! I vestiti sono asciutti! È tutto vero! È tutto vero! Il sole si sta pelando tasso! Il sole si sta pelando tasso! Dove devi andare? Ti stanno cercando. Su, presto. Ma non capisci che ti vogliono arrestare? No. Oggi qui non si arresta nessuno. Venite. Portiamo via i bambini. Su, indietro. 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 Indietro.